Le avventure di Gigi Robo d'acciaio Uo Gigi si è fio Ali, Ali! Statistate! Ali, Ali! Fatemi passare Fanno mezzo chile qui 10 kg, lascia! 10 kg lascia lascia che stiamo facciando la frosilla ma è meglio che ciiconosciate se no ci fate Caro, voglio le vongole ma ci ammettiamo una grande abbastanza Senti, io voglio le vongole, e tu mi devi accontentare perché sono incinta! Oh, che palla, e che te credo non è? Guarda che non ti soci! Voglio uscire una mucca sale, siamo fatti questo tutto qua, dammi, ma fai! E questa è l'ecografia! Sta giangata sta! Io sono tremesso che non la tocco! Che fai? Ah, sono dei gemelli! E adesso fai il tuo dovere! Aspettami a capire la sigaretta! Tu non l'hai mai fumato! Ma che ti fai mangiando i vongoli? Oh, che ne sapevo? Che ne sapevo io? Che cosa? Potevo mangiare? Ma una grande salsiccia e friariella, a proposito dei salsicci, sei chiupato? Non mi ricordo! So solo che c'erano i lavori a casa! Mi sono copato e non mi puoi cacciare! Sì, confermo, il padre è Salvatore il piastrellista! Ah, ecco, ma non era Totoro Ricciolo ora! Avvertite subito Gigi che facete succedere la disturbata, ti capito o no? Giorno! Ma che è triste? Totoro Ricciolo ora sei mio! Un minuto che fai a mattonello! Sì, ma alla prossima puntata! E ma che faccio? Aspetti!